In ogni momento il procedimento di definizione può essere visualizzato in tutte le sue parti mediante il bottone delle azioni. Cliccando sarà possibile visualizzare le parti coinvolte, istante, controparte, corecom, i dati della controversia, l'appuntamento e le informazioni sull'eventuale udienza, data, link per accedere al momento di convocazione, modalità di convocazione, precedenti reclami o tentativi di conciliazione, richieste fatte dall'utente alla compilazione del formulario e la toolbar dove sono presenti i bottoni per compiere le azioni sul procedimento. Per avere informazioni sulle azioni quali visualizzazione del fascicolo documentale, visualizzazioni proposte, assegnazione e riassegnazione del procedimento, assegnazione ad alta segreteria, richiesta di riferimento di udienza, sarà possibile fare riferimento ai video del procedimento di conciliazione, mentre le azioni specifiche del procedimento di definizione verranno presentate nei successivi video.